Avete visto il video della drava? Come non l'avete visto? Se non l'avete ancora visto? Qui in alto c'è un fantastico riquadretto. Cliccate per vedere il video. Io vi do appuntamento ogni martedì alle 18 per questi spin off sulla drava e buona visione. Ciao! Parte ufficialmente crema grazia. Che spettacolo ste vigne. Buongiorno! Oh! Crema. Brunico 40. Tutto per settimana prossima però. Buon gusto. Buongiorno. Buongiorno Brunico. Oggi è il giorno in cui si va sulla drava. Pensa che 5 anni fa nel 2013 facevamo un viaggio abbastanza incosciente. Senza averlo, almeno io, ero abbastanza incosciente. zaino in spalla con la bicicletta, la più scassata del mondo, veramente. L'esperienza che ha segnato l'inizio della mia passione per il cicloturismo. guardando le previsioni di oggi ho visto che forse piove o pioviggina tutto il giorno. e invece sembra essere uscito il sole. Wow! bici è stata conservata nelle segrete dell'hotel, non l'ho ritrovata con la ruota sgonfia e quindi il verdetto è... si continua. Questa è l'ora di partire. Non si capisce una sega, non c'è un cartello che dica di qua. Allora... Pustertal. Pare, pare, orca troia. che siamo sulla retta via. Boschiva. Freschetta. Ma ci si scalda perché si va in salita. Un picello. Un cazzo. Wow! Wow! Ah, che bellezza! Caspiarola. Che figata! Questo è in teoria di questi 25-26 km di salita erano i più tranquilli. da poco più avanti dovrebbe iniziare la parte tosta. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! bella salita al 9 10 sconfitta ah wow bellezze incredibili via della diga via della diga il laghetto della diga no no termina così la parte sterrata e ci si rimette su una ciclovia dedicata ci siamo ho trovato una fontanella è il momento più bello della mia vita 8 chilometri ad obbiaco non 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 vuol ho mia bella madonnina perché brilli dai vicini mi sa che qualcuno ha spento la luce e il sole ma non mi interessa i mangio Oggi diventerà una corsa contro il tempo Ma contro il tempo meteorologico Perché io devo evitare di prendere l'acqua Sicuramente ne prenderò durante il tragitto Quindi adesso vado, quando inizia copro le borse Però anche all'ins è prevista acqua tutto il pomeriggio Quindi inevitabile Prima arrivo meno ne prendo In onore del mio arrivo hanno fatto partire le sirene Grazie Grazie Da dove tutto, cinque anni fa, partì Proprio qui, cinque anni fa, partiva la nostra ciclabile della drama Il verde è lo stesso Il cielo coperto, ahimè, è lo stesso Passa di fianco al trenino Saluto San Candido E mi avvio Sì, siamo quasi in Austria, lo sai Siamo quasi nel punto dove il famoso Botrossio Festeggiando l'ingresso in Austria, ruppe un pezzo di borsa Ta-da! La trova! Il rigagnolino che mi corre a fianco mi accompagnerà con il fragore delle sue acque Che pian piano si riempiono e aumentano di volume Ciao bucca! Fino a Maribor Prato alla Drava Guarda un po' la cosa c'è Guarda un po', confine Italia-Austria L'Inz 30 km Qua siamo a Cillia Sì, il paradiso all'improvviso Dopo un fantastico strudel alle pere e noci e un caffettone che neanche a Salerno Buonissimo Si può ripartire Ha pure smesso di piovere Grava Grava Pineta Ciclabile La pioggia Che profumo Che profumo Bellissima Oramai La pioggia Che sta facendo i selfie Che sta facendo i selfie La pioggia 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 Abbiamo accettato Mi fanno anche tutti i complimenti per l'inglese Ho trovato il posto giusto per la tenda, qua perché non c'è pendenza, è riparato dall'albero così se prendo un fulmine lo prendo subito. Ah sì, la tenda sarà pronta tra la miglior tenda della storia delle tende, tiratissima! Grazie a tutti! Ah ma c'è un bel castello all'Inns! 18.13 si va a mangiare? Dopo aver mangiato come un maiale all'ingrasso me ne torno al campeggio. 20.02 tramonto su queste fantastiche montagne, io mi ritiro nei miei appartamenti. 21.13 si va a mangiare. 21.13 si va a mangiare! Ciao, buonanotte, a domani